Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale di EtiCasa. Oggi voglio parlarvi di quello che è l'ascolto multicanale. Questo sarà un video molto rapido in quanto è solo una descrizione di tutti i servizi di ascolto che EtiCasa ha messo in campo per i propri clienti, però è importante tenerli bene a mente. Ovviamente la fonte più normale di contatti è quella telefonica, quindi sul nostro sito trovate tutti i riferimenti per poterci contattare e parlare fisicamente con noi. Abbiamo poi tutti i nostri indirizzi email sempre riportati sul sito così potete contattarci quando preferite. Naturalmente poi potete contattarci tramite i social network, quindi abbiamo Facebook, Instagram e LinkedIn e tutti i sistemi di messaggistica loro proprietari, quindi non abbiate problemi ad entrare sulle pagine social che trovate sempre linkate all'interno del nostro sito web e contattarci tramite il sistema di messaggistica proprietario delle varie applicazioni. Veniamo ora alle ultime due applicazioni, due chat con cui potete dialogare sempre e comunque con EtiCasa. La prima è uno strumento molto diffuso e troverete sul sito sia nella versione mobile che nella versione desktop l'icona specifica che è Whatsapp. In questo modo potete dialogare direttamente con i nostri consulenti in qualsiasi momento lo desideriate. L'altro strumento, il più innovativo, creato personalmente da EtiCasa è il chatbot. Innanzitutto voglio spiegarvi che cos'è un chatbot. Un chatbot è un sistema di chat basato su un robot, quindi un software che ha un'intelligenza propria, che a seconda delle domande e delle risposte con cui interagisce con voi è in grado di consigliarvi una soluzione piuttosto che un'altra. Questo è un elemento molto importante perché vi consente di poter dialogare anche quando gli agenti EtiCasa o la sede è chiusa. Ad esempio la sera davanti alla tv se volete sfogliare il nostro sito e dialogare con il chatbot di EtiCasa lo potete fare. Vi aiuterà nelle scelte, vi guiderà nelle risposte, potrete prendere appuntamenti, potrete fissare delle chiamate esplorative o conoscitive oppure addirittura prenotare automaticamente un posto nella sala cinetica per poter visionare i vostri immobili. Questo è un ulteriore passo avanti nella tecnologia che EtiCasa porta all'interno del settore immobiliare, quindi la possibilità di un dialogo continuo H24 per poter soddisfare i bisogni di tutti i nostri clienti. Vi ringrazio e per rimanere sempre aggiornati sulle nostre notizie vi invito ad iscrivervi al nostro canale cliccando sulla campanellina. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!